bene da prete che cosa posso dire carriera ad ogni costo cosa vogliamo fare schiacciare l'altro certo la nostra società propone questo propone di schiacciare l'altro per arrivare primo io devo distruggere l'altro per arrivare primo è un po come grande fratello tutte queste trasmissioni in cui poco a poco si elimina uno si elimina l'altro no in questo mondo chiuso che hanno creato nella tv in cui io devo eliminare le persone per vincere bene una società così non è una società che vince una carriera così non è una carriera che andrà molto avanti o piuttosto alla fine forse avrai tutto ma sarai solo non avrai amistizie non avrai relazioni sociali perché tutto è stato sacrificato per la carriera anche la tua famiglia anche i tuoi affetti e questo non porta la felicità la società che vuole il signore è una società ben diversa ce l'ha insegnato lui e le società in cui non faccio morire gli altri ma muoio io stesso nel senso che quello che voglio è valorizzare gli altri per valorizzare me stesso e guardate che alcune società hanno capito che è meglio così che il rendimento dei loro impiegati è migliore se impiegati sono felice e si aiutano a vicenda ho visitato per esempio nei stati uniti la dreamworks sapete quelli che fanno i cartoni animati più famosi che hanno avuto oscar è un luogo in cui ami dove sei ami lavorare lì perché ti è dato tutto il conforto che vuoi puoi prendere il tempo che vuoi per realizzare quello che ti interessa avevano capito che se tu metti i tuoi impiegati in un luogo confortevole in un luogo in cui non c'è battaglia l'uno contro l'altro ma c'è il tempo e il luogo e lo spazio e l'ambiente per creare tu crei meglio bene la stessa cosa nella società è la stessa cosa su quello che viviamo più valorizzeremo gli altri più gli altri vorranno valorizzare te più ci sarà voglia di crescere insieme e questa è la società che i cristiani sono chiamati a costruire la civiltà dell'amore di cui parlava tanto giovanni paolo secondo io cresco facendo crescere gli altri questa è la società che cristo ci ha insegnato a vivere e a costruire grazie 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 grazie